E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Royd e oggi vedremo dove trovare la figlia dello stregone e quali sono tutti i suoi drop. Detto ciò il modo più veloce per poterla farmare è quella di teletrasportarsi al Dragon Keep da qualunque punto e poi buttarvi giù nel modo che vi sto mostrando in modo da tornare alla parte finale del livello dove troveremo la figlia dello stregone e quindi poterla farmare in pochi istanti. Una volta entrati nel suo livello ci sarà un salvataggio automatico e quindi ogni volta che la sconfiggerete respawnerete pochi metri fuori dall'arena e dovrete solo aprire una porta per entrare. Per quanto riguarda invece i suoi drop troveremo il fucile d'assalto leggendario dal Verruck, il lanciarazzi leggendario Tediore, Bunny, il fucile a pompa unico raro Hyperion, Earth Breaker, l'SMG leggendario Bandit, Slug, il fucile da cecchino leggendario Vladov, la Iuda, la pistola unica rara Hyperion, Ladyfist, l'SMG leggendario Hyperion, Beach, lo scudo leggendario Malewan, Flame of the Firehook, lo scudo leggendario Tediore, The Cradle, la granata leggendaria Dull, Byncing Bonnie e infine la granata leggendaria Hyperion, Quasar. Detto ciò cliccate qui per vedere le differenze tra questo gioco e il DLC originale.